Siamo arrivati al momento clou. Che cosa si pensa normalmente? Si pensa che per creare un momento di rapporto, un momento di condivisione, si debba ad esempio creare un common ground, non trovare il terreno comune. Quindi adesso faremo due simulazioni. La prima in cui utilizzerò un eloquio normale, quello che si fa normalmente quando si cerca di creare un rapporto con qualcun altro, e nel secondo applicerò le mie tecniche e dopodiché le analizzeremo insieme. Ok, io seguo te. Perfetto. Quello che ti chiedo, Gavri, è molto semplice. Ti chiedo di pensare a due tue passioni. Ne useremo una per ognuno dei due esercizi. Qualcosa che ti piace, di cui si è appassionata, che può essere la moda, compilare 7.30 se è una cosa che ti dà i brividi. Eh, ti ho appassionatissima di 7.30. I brividi gli dà. Vuoi saperlo, immagino, giusto? Non è un gioco da mentalista. No, no, assolutamente. Cominciamo, facciamo due volte. Cominciamo con la prima e quindi ti chiedo semplicemente, Gabriella, di che cosa sei appassionata? Allora, una delle cose delle quali sono appassionata, che ora è un po' che non pratico, ma mi piace veramente molto, è andare a cavallo, per esempio. Ci vado da quando sono bambina, mi piace molto, ho fatto tante esperienze da vera cavallerizza. Ah, che bello. Io sono nato a cavallo non tanto, perché non è uno sport, diciamo, l'equitazione che mi abbia mai coinvolto, però qualche volta mi è capitato, specialmente da ragazzino, e devo dire che sono anche in contatto con il cavallo, no? Da una sensazione... Beh, secondo me è molto bello per tante cose, perché il cavallo è un animale grande, impegnativo, devi saperlo gestire o lui fa quello che vuole, quindi la capacità di saper gestire un cavallo non è banale. Io ho fatto cose tipo tre giornate a cavallo, attraversando mezza Italia, quindi cose anche belle toste, che poi secondo me ti dimostrano anche molto di come sei fatto tu, perché in alcuni momenti devi gestire delle incombenze che riguardano proprio come reagisce l'animale, lì ti viene fuori un certo istinto che un po' scopri e che ti fa capire anche un po' come sei tu. Vero, vero, vero. Io ho delle esperienze molto inferiori rispetto alle tue, sai, quelle in vacanza, sulla spiaggia, a maneggio, ma anche in vacanza, nei centri estivi, queste cose qua. Ok, fermiamoci qui. Questa è una banale conversazione fra due persone, con un venditore che cerca di entrare un po' nella mente dell'altro, trovare un common ground, un terreno comune, insomma, stabilire dei punti di contatto veri o falsi che siano. Ok? E questo è ciò che istintivamente chiunque non abbia formazione fa. Ora utilizzerò invece un metodo diverso, quindi ti chiedo di cambiare completamente la passione. Ok, però sempre una passione vuoi conoscere. Sempre una passione, esattamente. Allora, diciamo che la seconda passione in realtà è sulla top 3, cioè proprio in cima alla lista, non so, è proprio sul podio, che è la passione per il ballo. Io in realtà ho insegnato per 15 anni i balli caraibici, quindi sono stata una ballerina in realtà ho ballato di tutto, però nei balli caraibici ero parecchio forte. E che cosa ti appassiona dei balli caraibici? È la musica, sicuramente molto travolgente, lo stile, poi per chi è appassionato di ballo, perché sono su un sacco di salseri online, io ho ballato per tanti anni in portoricano, peraltro Milano c'è una piazza fortissima, io facevo spettacoli, esibizioni e poi insegnavo. Mi piace il fatto che devi ballare in coppia e devi, il bravo ballerino, soprattutto la brava ballerina, sa abbandonarsi, ecco, è l'opposto del cavallo. Mentre il cavallo sei tu che gestisci lui, nel ballo devi farti guidare. E anche quella per me è stata un'esperienza importante, perché da donna che ha un carattere abbastanza forte, mettersi nelle condizioni di farsi guidare da un ballerino è un modo per lasciarsi andare. Lo dicevi prima anche tu, no? Anche nella negoziazione a volte lasciare andare, lo diceva anche Alfio nell'impresa. Ecco, quello mi ha insegnato a lasciarmi andare. Poi io ho il ritmo nel sangue da quando sono nata, per cui quella è proprio una passione viscerale. Sembra che la fiducia sia un tema delicato. Sì, anche, anche, assolutamente, sì. Il perdere il controllo e abbandonarsi tra le braccia di qualcuno che ti guida. Abbandonarsi tra le braccia di qualcuno? Sì, perché nel ballo di coppia non decide la donna cosa si fa, lo decide l'uomo. Il ballo caraibico, ma i balli di coppia in generale non sono molto equi, è molto maschilista, ma nel senso buono, nel senso dell'uomo che guida anche perché non si può guidare in due. E quindi la donna è proprio in una fase in cui, perché se vogliono guidare tutti e due non si balla bene. Ballare bene significa abbandonarsi. Sembra che tu sia una donna di polso, di base. Eh, sì, infatti per questo il ballo, da questo punto di vista, per me è stata una bellissima lezione di vita. E poi, ripeto, io amo ballare qualsiasi cosa, sia musica, per me, ti ripeto, è abbastanza viscerale come aspetto. È facile l'esercizio. Cioè, io parlo solo di passione, è fantastico. E si direbbe anche che tu sei una persona che ama mettersi in discussione. Ah, beh, assolutamente, perché comunque il fatto di abbandonarsi a un ballerino è l'esatto opposto di quello che di solito io farei. E quindi sembra che tu abbia scoperto qualcosa di nuovo anche su di te, grazie al ballo. Sì, non solo ho scoperto, ho anche allenato qualcosa di nuovo. Quindi intanto ho scoperto che è bello lasciarsi andare, non necessariamente bisogna sempre avere il controllo della situazione, gestire sempre tutto in prima persona. Che ogni tanto qualcuno che decide per te, tu che ti lasci guidare, ha la sua magia e ha la sua armonia. Quindi questo sicuramente l'ho imparato dal ballo. Ok, non andiamo oltre, ci fermiamo qua. È finito l'esercizio? È finito l'esercizio. È stato facilissimo. Sì, 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 certo, è stato facilissimo. Però tu ora ci spieghi cosa hai fatto tu nel frattempo. Nel frattempo. Assolutamente. E prima chiedo a te, Gabriella, innanzitutto, hai saputo qualcosa? Sai se a me piace il ballo caraibico, la salsa, la baciata? No, no. Però tu sei stato molto bravo da lì a cogliere tanti aspetti di me e a farmi sentire molto importante, molto capita. Perfetto. Qual è stata? Come hai vissuto? I due modi in cui hai vissuto. La prima parte in cui ho istintivamente cercato un terreno comune e la seconda in cui invece ho utilizzato quello che vedremo dopo. Come era il vissuto? Allora, la verità, verità è che proprio nel profondo, quando tu dicevi anche a me, anche a me, io pensavo non me ne frega nulla. Nel senso che, non per essere egoista, ma tu hai chiesto a me cosa piaceva, io stavo parlando di me e di te che mi raccontavi del tuo maneggio, proprio non me ne fregava un bel niente, ce lo trovavo superfluo. Nella seconda parte invece le tue domande che traevano, diciamo, spunto da quello che io stavo dicendo ed erano, se vogliamo, delle ovvietà ma raffinate, dette bene, mi facevano sentire, capita, importante e anche quasi come se tu capissi me ancora meglio di come mi capissi io. Cioè a un certo punto ho detto, ma guarda bravo, è vero, in effetti questa cosa mi ha aiutato lì, non ci avevo pensato. Quindi sì, non ci avevo fatto caso perché io ho risposto davvero con grande spontaneità, però queste cose le ho pensate. Ti ringrazio perché l'obiettivo è proprio quello, è far sentire l'altra parte al centro delle nostre attenzioni, completamente ascoltata con gli occhi e con le orecchie e soprattutto dare l'impressione di volerne sapere di più. Quasi in alcuni punti effettuare una leggera lettura del pensiero, come se avessi letto fra righe e avessi intuito quello che tu, in realtà tu mi hai dato l'indicazione. Però nel secondo caso al centro c'ero io, non c'eri io. Certo, nel secondo, nel secondo. E oltretutto io so molte cose di te, so della tua indole di controllare, il fatto che vivi in un mondo che è tendenzialmente maschilista e che quindi evidentemente avrai superato delle sfide nella tua vita, ma che sia una persona che ama mettersi in discussione e che ho scoperto molto di te. Se dovessimo fare una società insieme io avrei in un minuto o due minuti estrapolato molte informazioni sul tuo profilo caratteriale o comportamentale. che ha soci di cui scopre l'indole dopo anni e anni e anni, soci, partner eccetera. Però ecco, nelle società, nell'acquisizione di nuovi collaboratori, di nuove persone, saper capire, saper leggere, sì, è un ingrediente determinante, assolutamente sì. Sono tanti, sono rimasti, li vedo abbastanza sballorditi, perché tu hai fatto una cosa molto semplice che però è stata, spero ne abbiano notata tutti, veramente molto potente. Vai a te la spiegazione. Ora vediamo esattamente l'applicazione. L'ultima domanda che ti faccio velocissima è, nella seconda parte, diresti che abbiamo stabilito, ho stabilito con te un rapporto empatico? Assolutamente. Perfetto, senza dirti, anzi appositamente, non dicendoti nulla di me, ma lasciando che tutto ruotasse intorno a te, come diceva Vodafone. Allora, vediamo che cosa si nasconde qui dietro, tecnicamente vediamo che cosa ho fatto. Dunque, io ho utilizzato due tecniche che sono quelle che vorrei che vi portaste a casa da questa sera, che sono il retracing e il surfacing. Allora, il retracing, che deriva dall'inglese ritracciamento, consiste nel riconoscere le parole chiave che la nostra controparte ha pronunciato. Ad esempio, Gabriella ha esordito dicendo di balli caraibici, e io credo di averti ripetuto balli caraibici. Nella frase totale che la nostra controparte pronuncia, noi dobbiamo identificare due o tre parole e riproporgliele. Spesso sono le ultime due o tre parole, non è detto, non facciamo un miro lì da pappagallini, perché se uno ci dice, io non sono contento, sai che domani vanno lì, non è vero? E noi ripetiamo, non è vero, abbiamo completamente fatto un buco nell'acqua, dobbiamo scegliere le parole con attenzione. E le riproponiamo con tono curioso e interrogativo alla controparte. Che cosa succede una volta che lui ci dice, ci parla ad esempio del weekend, o dei balli caraibici senza nominarli, che se noi ripetiamo la parola weekend anziché fine settimana, noi stiamo, gli facciamo capire che lo abbiamo ascoltato, che vogliamo saperne di più, e lo invitiamo ancora a parlare. Però dobbiamo scegliere le sue parole. Tu non hai parlato probabilmente di stili, e io non ho azzardato a parlare di stili, perché in quel momento nella tua mappa mentale gli stili non c'entravano nulla. Quindi ho pedissequamente ricalcato, ritracciato le tue orme comunicative, le impronte che tu hai lasciato sul terreno. Ed è tanto semplice quanto dirompente. Noi in Occam spesso ce lo facciamo a vicenda, devo dire che dopo tre passaggi, che mi stai perculando, me lo stai facendo. Ma altrimenti non te ne accorgi, perché ognuno è così preso dal desiderio di parlare di sé, che quando l'altra persona lo incalza, si apre e racconta ancora di più. La seconda tecnica si chiama surfacing. Surfacing dall'inglese significa letteralmente portare a galla, quindi portare in superficie, e si basa sul fatto che gli esseri umani passano il 95% della loro vita sentendosi incompresi. Tu prima, Gabri, quando ti ho detto come ti sei sentita, mi hai detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, e mi hai detto mi sono sentita incompresa, mi sono sentita ascoltata. Quindi già solo il fatto che io riesca, con delle tecniche specifiche, a stimolare un'empatia strategica nella mia controparte, fa sì che dopo qualche minuto di conversazione, non solo si sia stabilito un rapporto, ma lui magari mi sa, o lei mi sa, di nel telefono, con un nome, e quando sente squillare il telefono e vede che sono io, non pensa che cosa vuole di nuovo questo qua, mi parlerà addosso per un'ora delle sue cavalcate a cavallo a tramonto. No, l'immagine mentale che tu avrai di me, sarà probabilmente di quella persona accogliente, che ti ascolta e che è tutto concentrato su di te. Cosa che oggi, ancora di più, grazie purtroppo alla soglia di attenzione che ormai è crollata, non avviene più. Quindi, entriamo nel 5% delle persone che fanno sentire gli altri ascoltati, e che dedicano tempo e attenzione agli altri, riportiamo a galla ciò che l'altra persona ha detto. In che modo? Utilizzando delle frasi con verbi all'impersonale, che cominciano con sembra che, si direbbe che, sembrerebbe che. Una cosa che tu hai detto, Gabri, quando io ti dicevo, ah, le mie cavalcate a tramonto, tu giustamente mi hai detto, a me delle tue cavalcate a tramonto non me ne frega niente, perché hai fatto la domanda a me. Quindi anche di quello che a me sembra, se io avessi detto, beh, mi sembra che tu sia una donna, il fatto che io abbia aggiunto quel mi sembra, avrebbe vanificato l'effetto della costruzione della frase, perché avrei inserito una connotazione personale, il mio pensiero. A te di quello che penso io, e vale per tutti gli altri esseri umani, interessa poco, interessa essere noi al centro dell'attenzione. Quindi la costruzione deve essere, sembra che tu sia una donna, portiamo a galla quello che c'è, una donna che si mette in discussione, sembra che il rapporto con gli altri per te sia importante. Qualunque sia l'esigenza, il bisogno, ciò che noi vediamo lì sotto, è che molto spesso le altre persone non riconoscono, sono lì sotto, sono latenti, ma quando le esterniamo, le verbalizziamo, di colpo hanno dei piccoli insight. E quindi pensano, caspita, questa persona mi ha quasi effettuato una leggera lettura del pensiero, che credo di aver, corregimi se sbaglio Gabriella, ma penso di aver riassunto ciò che tu hai provato nella nostra breve simulazione. Assolutamente, concordo. Ottimo. Quindi è possibile establire empatia in modo, tecnicamente, estrarre informazioni, capire che abbiamo di fronte, tarare la nostra offerta, tracciare un profilo psicologico di che abbiamo di fronte, alzarci dal tavolo dopo mezz'ora, un'ora di conversazione, noi sappiamo vita, morte, miracoli dell'altro e l'altro non sa niente di noi. Grazie. Grazie.